Ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video siamo qui oggi tornati su fasmofobia perché oggi proviamo la nuova mappa che è point hope e proviamo ad avere questo beige benissimo guardate che bello gli targhettatori degli annegati se non ce n'avrò bestemmio sono usciti un sacco di video da continua volta che ho portato fasmofobia e quindi vi consiglio di dare un'occhiata carina la mappa molto molto particolare si è ma che è una torre di turnag di bundes gate 1 uguale no come si un bel figlio Sì, sono all'estanzale. Eh? Sì? Sì, effettivo, ok. Oh! Oh! Sì! Vendete la pallina verde e invocatela nella buca più vicina. Aspetta, togliti. Ok. Pallina blu. Vabbè, ma sono quella a spaccare, no? Come cazzo si fa? G, G, togliti un item, togliti un item con G. Io vado a prendere l'Umi. Ce l'ho io l'Umi. Qua la devo buttare. Dove va? Qua, G? No, qua, qua. No. Tranquillo, pure un fuoco. Eh, no! Ok. E mo, la cancione, sempre tu, sempre tu, dove l'ha messa, venuta a cerco. La cancione, però. Oh, no, è questa, è questa. Eh, questa è un lotte verso... Ahahahah. E poi a buca qualcuno. Che pezzo è stato? Una chiave. Una chiave. Pure andi là. Dove sta? Sì, dal lato nuovo. Sì, dal lato nuovo, dove stai tu? Sotto? Passa lì. Io non l'avevo. Ah, eh. No. No, ho, ho. Ok. Come vedete, qua s'avversa la fine estrella, e manca un ingranaggio in che scendiamo. E' in acque. E' giusto. Ecco. Che fai? Non ci va Ah, QF, l'UK m'ha fatto, ma funziona tutto com'è? No, se l'inizio riferirete che il faro ha cominciato a pulitare Ok, e? Adesso possiamo andare a suonare la campana tre volte, quindi prendiamo il giro E adesso il fantasma ci ammazza Sì No Dio mio, e quindi? Quindi tu è una bella tre volte Cioè, tu hai a testa? Comunque è proprio una fine Il fantasma che chiude la porta è proprio da film Quindi in modo dobbiamo usare i film assurdo Ecco qua Credito, ciao il fatto che stava e quindi la mia voce adesso per la che stava e quindi la mia voce e quindi la mia voce e quindi la mia voce bene bene che dobbiamo fare? Ok, la divisione è puntata verso il falo. Sì, penso che sono 5 minuti che sono finito. No. Emmo? Noi che abbiamo sbagliato qualcosa. Ma c'è un problema, è che se la luce non è fissa deve essere fissa. Ok, dobbiamo assolutamente trovare questa stagicola. Mi fotto un UV, mi fotto una telecamera e mi fotto la torcia. Vabbè, ma andiamo ad accendere il generatore. Andiamo ad accendere il generatore tanto, no? Vanno. Punta un UV su un faro. Aspetta. Sì, ma tanto quando non lampeggio più quando è fissa. Vabbè. Che cosa che succederà quando Caffè avrà suonato delle volte la Caffè. Fake. Fake. Ma? C'è sentito? Sì. S'ho cagato sotto. Bellissimo. È perfetto comunque come... Sì. 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 Sì, lo sento. Sai che sta a farne quel tempo? Fuori che è meglio. Aspetta però, facciamo ieri a fondo. È un V, un V. Un V? Via via. Io non lo vedo un UV. Madonna. Ma che costa? Prendi altro sale e prendi pure l'ubbio. È andato per di qua, comunque. Cosa? È andato per di qua. Ma dove è partito? È partito da naggiù. Regà, io non posso pienarmi perché non mi funziona bene la C. Quindi vi lascio pure questo per terra e non lo prenda perché non lo prendo. Fatto. Non lo prendo. Non posso prendere il termometro. Aspetta. C'è andato. Aspetta, aspetta. C'è andato. Vai. Grande Gemma, grazie. Dove sei? Ok. Tutto ok? Ok. 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 Ok... Ok. Ok. Sì, sì. aiuto tu che dici ony sono d'accordo perché ci ha spaventato molto si ony si si come se poi ci sentisse bene bene